Non ho cambiato lavoro, non faccio la hostess di volo, anche se ho bel lavoro, ma la nostra missione è quella di andare in tazzo per conoscere la nuova più complicata. Vi do un po' di dati, l'unico, la lunghezza è lunga, 3,68, ma per il resto dobbiamo andare lì perché anche noi la vediamo per la prima volta, allora continuo a volare, no?